Si è tenuto nei giorni scorsi al Faberbox di Schio l'incontro Robotica per Tutti, organizzato dal Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza, in collaborazione con Iguus SRL e lo studio di progettazione Maxolver. Vediamo! Un evento per scoprire come la robotica possa diventare una risorsa accessibile e capace di migliorare la produttività e l'efficienza aziendale. Studenti e imprese hanno potuto provare con mano le soluzioni più innovative, economiche e di facile gestione potenzialmente integrabili nelle aziende. Ricordiamo che il Digital Innovation Hub di Vicenza è a disposizione per aiutare le imprese ad implementare queste strumentazioni nei loro sistemi di produzione. Per maggiori informazioni e per richiedere assistenza ai loro specialisti, potete scrivere alla mail info-digitalinnovationhubvicenza.it Grazie a tutti!